Benvenuti nel mondo degli orologi Armin Strom. Gli orologi Armin Strom hanno una storia interessante che li rende unici e apprezzati dagli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Armin Strom è una fusione unica di tradizione orologera svizzero-tedesca, meccanica all'avanguardia e un impegno incrollabile per l'innovazione orologera. Fondata nel 1967 dal maestro orologiaio svizzero Armin Strom, l'azienda è stata creata con l'obiettivo di creare orologi esclusivi e di alta qualità. Armin Strom ha iniziato a lavorare come apprendista orologiaio all'età di 14 anni. Nel corso degli anni ha affinato le sue abilità e ha iniziato a creare orologi in proprio. Nel 2006, quando si ritirò dall'orologeria, passò la proprietà del suo marchio a due ragazzi, l'uomo d'affari Serge Michel e il maestro orologiaio Claude Graysler. Nel 2009, la nuova Armin Strom aprì la prima manifattura completamente integrata. La fabbrica si trova a BLBN, in Svizzera. Oggi la fabbrica produce tutti i segnatempo internamente e con grande rispetto per la tradizione orologiera svizzero-tedesca. L'eccezionale team di ingegneri e artigiani dedicati, guidato dal maestro orologiaio Claude Graysler, sostiene questa tradizione con passione e impegno senza compromessi. La filosofia di Armin Strom è quella di creare orologi che siano unici e personalizzati. Ogni orologio è progettato per soddisfare le esigenze e le preferenze del suo proprietario, e quindi ogni orologio è unico. Gli orologi Armin Strom sono stati premiati in numerose occasioni, e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per la loro innovazione e il loro design unico. L'azienda continua a evolversi e a migliorare, ma la sua filosofia di base rimane invariata, creare orologi belli, duraturi e di alta qualità. Gli orologi Armin Strom sono una scelta eccellente per chiunque cerchi un orologio di alta qualità, personalizzato e con un design unico. Se sei un appassionato di orologi, ti consigliamo di dare uno sguardo alla collezione di Armin Strom e di scoprire il fascino e la bellezza di questi straordinari orologi svizzeri.